L'8 e il 9 giugno si vota anche a 100, si vota per il Parlamento Europeo e oggi noi cerchiamo di capire perché è importante votare e cosa andiamo a votare, subito dopo la sigla al caffè della domenica mattina. Buongiorno amici di Obiettivo 100, Giorgio e Nicola vi offrono questa dose di buon umore. Mettetevi comodi, rilassatevi mentre bevete dalla vostra tazzina, perché il caffè più buono è solo quello della domenica mattina. Nuova domenica, nuovo caffè amici di Obiettivo 100, oggi iniziamo un percorso verso l'Election Day del territorio, non si vota 100, non si vota proprio qui vicino, ma si votano alcuni comuni, soprattutto a noi quello che ci frega è che si votano le europee. Giusto per questo ci cercavamo un ospite che fosse abbastanza esperto di politica internazionale, casualmente ne abbiamo uno che è invitato nel cassetto ci giochiamo, Matti Etrano, che ricordo che applaudiamo, che ricordo essere comunque laureato in scienze internazionali, insomma con vari master e quindi ce ne sa più che noi. In buona sostanza quello è il punto. Anche se quando gli ho proposto l'appuntata l'altro giorno mi ha detto che devo studiare. Sì perché se mi dai questi preavvisi così ampi... Eh ma te non sei un ospite normale, sei un ospite che non ritorna, quindi... Sei un jolly praticamente. Io sono un jolly quando c'è bisogno di... Allora la verità te l'avevo anticipato che prima o poi avremmo fatto questa puntata. Un po' diversi ma va bene, ci siamo adattati, noi siamo... Esatto. Allora, partiamo proprio da lì, che mi fai il bip? Va bene. Che c***o vogliamo votare? L'8 e il 9 di giugno? Scusate il francesismo ma noi dietro le quinte delle elezioni ne sentiamo parlare. Aiosa. Sì nel senso, noi sappiamo che l'8 e il 9 giugno tutti sono chiamati a votare, cosa e perché? Cosa e perché? Sostanzialmente andiamo a votare per il Parlamento Europeo e già qui penso che si dovrebbe fare un attimo di... Cioè quelli che noi mandiamo in Europa prendere uno stipendio e non vedere mai più e che delle volte non vanno neanche in Europa, cioè gli mandano solo la cartolina e lo stipendio. Esattamente, cioè non si sa, non si capisce bene se sia un confino per gente che deve essere eliminato dal panorama nazionale. Beh, quello che si è presentato con la maglietta del toro direi che... Top, top, europarlamentare irlandese, fantastico. Ma infatti, piccola premessa, a me fa molto ridere che noi siamo molto giustamente critici con i nostri parlamentari che spesso si macchiano di atti vergognosi per l'istituzione, ma poi andiamo un po' più in là a Bruxelles e vediamo che anche il resto d'Europa non è proprio messa benissimo. No, no, assolutamente, assolutamente. Diciamo che, allora, sembrerà strano perché in realtà è una cosa che magari si ripete tornata elettorale dopo tornata elettorale, ma la cosa importante e interessante è che noi andiamo a votare il Parlamento Europeo che è l'Assemblea transnazionale, quindi... Quindi LGBTQ+, no, oddio, anche nel senso, non in quel senso lì specifico, però sostanzialmente l'Assemblea transnazionale votata direttamente dai cittadini delle nazioni che la compongono più grande del mondo, cioè nel senso non esiste un'altra cosa così nel mondo. Si sa quanti, in quanti ci vanno in totale? Certo, fino a un massimo di 750 europarlamentari. Poi, di volta in volta, viene modificato il numero degli europarlamentari in base a decisioni sostanzialmente prese nelle sedi europee, ma è un organo che, ripeto, generalmente si fa tanta confusione tra Parlamento Europeo, Commissione Europea, Consiglio Europeo e sono organi che di fatto rappresentano il governo dell'Europa, in che maniera? Il Parlamento Europeo ha un ruolo importantissimo, soprattutto dal Trattato di Lisbona, in poi, dove ha aumentato le proprie prerogative e di fatto concorre a sviluppare e adottare i regolamenti europei, le direttive europee. Ma, cioè, fammi capire questa cosa. Quelli che ci fanno eliminare il succo d'arancia. Sì. Ecco, a parte questo, no? Sono cattivo oggi. Sì, sei un po' ingastrito, ma adesso peggiorerò anch'io. Quando si studiava a scuola, no? Ci veniva spiegato, insegnato, ad esempio, che in Italia il Parlamento detiene il poter legislativo. Sì. Il Parlamento Europeo fa le leggi europee? Allora, in senso ampio, sì, in senso specifico, no, nel senso che concorre al, è titolare della funzione di attività legislativa, però di fatto il meccanismo è un pochino differente, anche se l'idea che il, la Commissione Europea possa proporre, eh, lo sviluppo di determinate linee di azione, il Parlamento le può elaborare, le può adottare, però, insomma, anche qui, eh, diciamo, eh, essendo l'Unione Europea un organo sovranazionale senza precedenti, cioè, non esiste una struttura istituzionale che si sia mai sviluppata in questa maniera, perché non è, non è né una federazione, né una confederazione, né uno stato federale. A me sembra che non proprio non si sia mai sviluppata. No, dai, tutto sommato, tutto sommato, l'Unione Europea, come dire, è comunque un unicum sostanzialmente. Assolutamente un unicum, quindi ha delle caratteristiche un po' particolari a livello di funzioni interne. Però, idealmente, sì, il Parlamento Europeo è titolare della funzione legislativa, ma, per esempio, può adottare, come si dice, i trattati internazionali, per esempio. Cioè, gli approva il Parlamento Europeo, i trattati internazionali che impegnano l'Unione Europea indeterminati. Magari in caso di migranti, anche. Sì, diciamo, per esempio, un esempio classico è quello dei trattati di libero scambio. Ok, quindi i trattati di libero scambio, quindi, se c'è un trattato economico che stiamo trattando con, come se ne è parlato per tanti anni, con il Nord America, il Parlamento Europeo, in ultima istanza, adotta, può, deve approvare questo tipo di trattato. Anche i DASI che vengono magari dati alla Russia. Allora, sì, in quel caso lì... Ci tengo a rimarcarlo per la domanda che ti farò poi verso fine puntata. Sì, sì, in quel caso lì, più che DASI, stiamo parlando, immagino, di le sanzioni economiche. Sì, famose sanzioni, lui, sai, è un po' arcaico, i DASI... No, sono due cose diverse. Cioè, il DASI, di base, è una misura di protezione della propria economia, quindi tu dici... Decide anche quello, nel caso. Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Devono adottare, chiaramente, la linea, però, come dire, non è che il Parlamento Europeo decide da solo, ecco. Quindi, sostanzialmente, c'è tutto un coordinamento a livello di istituzioni europee che porta ad avere una certa linea e che porta all'adozione formale, poi, di determinate azioni. Cioè, è un po' come a Briscola, praticamente, che sostanzialmente tu rischi di vincere se hai in mano Asso, Tre e Re, il Parlamento Europeo, in ambito europeo, è uno fra Asso, Tre e Re per decidere un pochino come è fatta l'Europa. Sostanzialmente sì, sostanzialmente sì, perché esiste un organo che, di fatto, l'Unione Europea è fatta in questa maniera. Esistono organi europei, cioè collettivi, come il Parlamento Europeo, che però rappresenta le singole nazioni, organi eminentemente europei, la Commissione Europea, che di fatto è l'esecutivo europeo, dove ci sono i ministri e il commissario, che sarebbe un pochino il Premier. Attualmente è la Wunderlier, che però sento un prurito al tallone da Mario Draghi, secondo me. E anche ieri Mario Draghi ci ha giocato, come si dice, in termini forbini. Giocato una briscola anche lui. Giocato una bella briscolona, insomma, diciamo con un discorso abbastanza piccolato. Qua apro una parentesi del fenomeno Mario Draghi, che a me mi ha sempre affascinato, perché l'Italia, diciamo, almeno la narrazione che noi abbiamo, comuni mortali del cittadino, comune che l'Italia in Europa non conti niente. Mario Draghi non si sa perché, è l'unico italiano che, se sembra che lo riusciamo a piazzare lì, soprattutto, e nessuno lo rimarca mai. Ma cavolo, è italiano, ha un'importanza clamorosa in Europa, è italiano. Quindi, cioè, l'Italia riesce anche a fare cose, insomma, di una certa rilevazione. Oggi cattive non sto a dirlo, però... È una delle personalità politiche e istituzionali più importanti al mondo, non solo in Europa. Ed è italiano, ogni tanto, noi nazionalisti, italiano, insomma... Sì, 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 è italiano... Ed era in classe con Magaglio. Questo è molto importante. Questo gli dà proprio il pollino. È la cosa più importante del curriculum. Assolutamente. Quindi, in sostanza, dopo queste strane similitudini con giochi di carte, personaggi fantastici, compreso Magalli, perché possiamo dire che sia importante questo voto per le elezioni europee, per eleggere il Parlamento europeo, che è una delle tre carte più importanti quando si gioca a briscola in Europa? Esattamente. Banalmente, proprio per quello che hai appena detto, sostanzialmente, eleggere i propri rappresentanti in Europa significa dare forza a una linea piuttosto che un'altra, a una serie di istanze piuttosto che altre che vengono rappresentate. La politica europea è particolare, perché sostanzialmente, come si dice in microeconomia, è micro fondata. Cioè, le istanze partono dai singoli paesi che hanno le proprie esigenze e si cerca di rappresentarle in maniera sempre più, come dire, amplificata a livello collettivo. Anche perché poi, scusami se ti interrompo, è l'unica cosa che possiamo votare in Europa come cittadini. Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è importantissimo. Ovviamente, noi votiamo, ok, le nostre istituzioni e il Parlamento europeo. Perfetto. Ma se noi vogliamo effettivamente interessarci di quello che ci succede, alle volte sembra che le cose che succedono in Europa ci caschino... Ci piovono dall'alto. Ci piovono dall'alto. Siamo questo cliché. Esattamente, senza nessun tipo, tra l'altro, di, come si dice, di accountability. Cioè, sembra che non abbiamo nessun tipo di influenza su quello che... Eh beh, ma decidono tutte le big farm, lo sappiamo. Poteri fori, esatto. Cioè, ma se pensiamo ai temi che sono in gioco oggi, ma sono sempre stati in gioco ad ogni tornata, cioè ogni fase storica ha avuto temi importanti, oggi ancora di più. Cioè, si parla del... Sostanzialmente del futuro a livello di sostenibilità ambientale del mondo e noi siamo, in Europa, siamo all'avanguardia assoluta, a livello di legislazione. Ok, siamo molto all'avanguardia con diverse situazioni problematiche, come può essere la situazione che si ha nel campo dell'automotive. Ma anche l'Europa, per esempio, è un tema su cui, ascoltando Radio 24, che mi considero abbastanza affidabile, sta cercando in maniera legislativa essere all'avanguardia anche sull'intelligenza artificiale, per esempio. Assolutamente. Però vorrei fare prima una precisazione, perché, almeno aiutami a mettere lo spettatore in condizioni di capire. Non è che se noi andiamo a votare, non lo so, il Partito Democratico o Fratelli d'Italia, allora c'è un gruppo parlamentare di fratelli d'Italia. È vero, anche questa cosa qua forse molti non la sanno. Sì, sostanzialmente i gruppi, i partiti politici che presentano i candidati alle elezioni europee, che sono i partiti politici che noi votiamo alle nostre elezioni nazionali, da Fratelli d'Italia al Partito Democratico, eccetera, come si diceva correttamente, aderiscono a dei gruppi politici europei. Il Partito Popolare Europeo, ad esempio, piuttosto che il Partito Socialista Europeo. Allora cerchiamo anche qua di chiarire lo spettatore, perché ogni tanto andiamo per scontato con noi che siamo appassionati, che si sappia cos'è. Se lo sentite ogni tanto nominare, il Partito Popolare Europeo è, diciamo, quello più tendente a destra. Centro-destra. Allora, sì, diciamo che è considerato una sorta di democrazia cristiana europea. Il Partito Popolare è qui. Sai che ci ringallustiamo con queste cose. Qui si tocca un tasto importante. Diciamo che è un partito di centro-destra, ma non estremamente conservatore, come possono essere altre formazioni politiche. Ci sono i verdi, ci sono, insomma, si replicano. In Europa non hanno avuto cracks, possono chiamare il Partito Socialista Europeo. Sì, sì, certo, certo. Magari in Italia, anche se sarebbe ora, mi piacerebbe che ogni tanto qualcuno lo dicesse, che ci vuole il socialismo a sinistra. Tra l'altro, ultima nota di colore, mi piace che il Partito Democratico cerchi sempre di trovare una linea mediana, ultimamente, ha fatto una nuova tessera di iscrizione al partito con la faccia di Berlinguer. Cioè, marchiamo esattamente dove sta portando il partito. È una linea chiara, però mi piace. E detto questo, abbiamo parlato di perché è importante. Posso aggiungere una cosa sul perché è importante? È uscita proprio oggi una notizia su Euronews, dove sostanzialmente, proprio del 17 aprile, dove l'Eurobarometro ha di fatto creato... Cos'è l'Eurobarometro? L'Eurobarometro, c'è l'accountability, l'Eurobarometro. Il sondaggio, sostanzialmente, è il sondaggio ufficiale del Parlamento Europeo sulle dinamiche politiche in Europa. Sostanzialmente ha stabilito che... Che siamo umidi. Esattamente, che siamo umidi, che quasi due terzi dei cittadini dell'Unione Europea voterà a questa tornata elettorale. E aggiungerei anche il fatto che già nel 2019 si era superato il 50% di affluenza. E sembra che oggi si andrà, per l'appunto, quasi due terzi, significa andare attorno al 75%. Quindi i cittadini si sentono di votare più il Parlamento Europeo che il proprio Parlamento? A livello europeo. Oddio, oddio. Questa è una domanda che presupporrebbe un'analisi più lunga. È una bellissima domanda. Magari lo analizzeremo a fine elezioni. Assolutamente. Però quando parliamo di importanza, secondo me, in questo momento qua, il sentore comune è per lo scenario internazionale. Perché, insomma, l'escalation che c'è stata, abbiamo fatto una bellissima puntata anche sulla guerra con Mattia, sappiamo che c'è una situazione internazionale molto critica per vari fattori della guerra in Ucraina, piuttosto che in Medio Oriente, che partono missili come caramelle. A questo punto l'Europa, come si colloca in questo scenario internazionale? Ha un peso? Perché si fa fatica a capire molto spesso, secondo me, anche dovuto alla facilità con cui si cerca su internet, non si ha la percezione del peso che ha l'Europa nel scenario internazionale. Allora, la domanda è una domanda classica, è una domanda di amplissimo, come dire, respiro. Io direi così, io direi che l'Europa cerca di avere un peso a seconda dell'arena in cui va a agire. Cosa intendo dire? Ci sono problemi di vario genere e questioni di vario genere. C'è una fra tutti, la questione della guerra, che va a toccare sostanzialmente il problema della sicurezza, ok, in Europa. Tra i vari va a toccare eminentemente con la sicurezza. Quindi uno dei temi è questo. Siccome si è sempre parlato di sviluppare un sistema di sicurezza comune, questo sistema di sicurezza comune ad oggi è un progetto realizzabile, è cogente, quindi è urgente. Qualcuno direbbe di sì. Bene, una volta che abbiamo sviluppato questo progetto di sicurezza comune, quindi banalmente, come dice Paolo Mieli su Radio 24, l'esercito europeo, a questo punto la Nato che ruolo avrebbe? Ecco, queste sono domande molto importanti. Perché l'impressione che si ha è che stiamo mostrando il fianco alla Nato in questa fase. L'impressione e la percezione. In che senso? Negli scenari internazionali. Beh, Dio, la Nato in realtà adesso è in un momento in cui si sta di fatto a piccolissime dosi, anche spandendo. Io ho la convinzione contraria, però mi capita di sentire il cittadino in piastra, che dopo diventa protagonista di Radio Bugadera, che dice ma della Nato non ce ne facciamo niente, non conta un caro. Intanto dicendo tutti gli americani, ecco, questo è il cliché. Diciamo che sostanzialmente è una vulgata, ma non è del tutto inesatta. Diciamo, è messa giù alla brutta con un sacco di imprecisioni, però il peso che hanno gli Stati Uniti ancora nella nostra vita e nel decidere le sorti del nostro continente a livello di sicurezza è ancora un peso importantissimo. Ti direi una cosa in più, una cosa molto importante che questo Parlamento europeo andrà ad affrontare nel prossimo quinquennio è la possibilità di trovarsi nuovamente per un secondo mandato un alleato americano guidato da Donald Trump che di per sé, al di là di quello che può piacere o può non piacere, Donald Trump ha sempre sostanzialmente spinto sull'idea che l'Europa deve in buona sostanza pagare se stessa in qualche modo per aumentare la propria sicurezza. Quindi investire nella propria industria di sicurezza, nella propria industria militare. Comunque l'America investe un poco la difesa. No, no, ma in punto. Infatti diciamo sono visioni alternative su quello che può essere Stati Uniti che continuano a essere presenti e garanti dell'ordine e della stabilità europea e Stati Uniti che sono un po' meno presenti, un po' meno garanti perché dicono ok però dovreste pensarsi un po' di più voi alla vostra sicurezza perché noi effettivamente estendendo il ragionamento all'estremo diciamo se la Russia vi prendesse qualche territorio a noi in primissima battuta cambia leggermente meno che rispetto a voi. Quindi perché dovremmo rimanere, continuare a rimanere così impegnati? Questo è un tema che vede Biden ad esempio mantenere una linea più tradizionale quindi di supporto abbastanza forte sostanzialmente a tutto l'impianto nato attuale e Trump a parole perché spesso quello che lui ha dichiarato diciamo non è stato proprio quello che ha messo in campo a parole come dire lancia dei segnali molto più ambigui della serie ma insomma potremmo anche tagliare qualche fondo da certo punto di vista. Ora cerchiamo di ritornare a puntata perché siamo andati un po' sul tecnico non vogliamo annoiare però insomma l'Europa per riassumere conta è certo che conta banalmente per la posizione che ha è in mezzo voglio dire ma è in mezzo si potrebbe fare la domanda contraria il conflitto russo-ucraino conta per l'Europa? Questa è una domanda che è abbastanza importante conta tantissimo perché conta? Perché effettivamente se volessimo dire ok consegniamo globalmente l'Ucraina perché si sentono questi discorsi ma perché non gliela lasciamo che così è contento e siamo a posto così giusto a Putin si sente sarebbe la prima modifica sostanziale dell'ordine territoriale in Europa dal 1945 questo significa che per chi è un pochino ha masticato di queste cose c'è sempre questa idea uno si prende un pezzo poi dice no vabbè però effettivamente magari anche non lo so l'Ungheria potrebbe essere Luca Bizzarri nel podcast che ascolto sempre diceva che parlava con un russo qualche tempo fa che gli ha fatto la battuta preparatevi tra un po' difendere il Friuli Venezia Giulia si sono battute ma sono sempre cose che giustamente abbiamo detto non andiamo sul tecnico sull'analisi la percezione della gente comune si divide anche un po' in questa maniera chi dice vabbè ma tanto sono lontani chi se ne frega e invece rispetto a no aspetta magari ci troviamo a difendere il Friuli Venezia Giulia cioè questo dà un senso di quanto può essere importante andare ad esprimere la propria voce poi da noi abbiamo affrontato il discorso della guerra perché è quello che ormai ascoltiamo quotidianamente dal punto di vista economico l'Europa ha una centralità che insomma l'Europa è un mercato gigantesco e come diceva giustamente anche Mario Draghi l'Europa sta cercando e lì è un'altra partita importantissima di avere un ruolo da protagonista nell'arena sostanzialmente della tecnologia perché sentivo sentivo un discorso di Ian Bremmer che vabbè è un opinionista ma insomma molto più profondamente è uno scienziato politico molto comunicativo quindi ha fatto questo intervento in un TED sostanzialmente dell'anno scorso e lui parlava diceva ok siamo sempre stati abituati a ragionare di politica internazionale come politica militare e politica economica in realtà stiamo andando sempre più a quello che è anche un ordine tecnologico per l'appunto quindi e lì come ci gestiamo lì ci sono tantissime questioni che non sto a sviscerare no no comunque potremmo anche farlo se hanno no si potremmo farlo Giuliano Amato nel senso noi come ci gestiamo cioè i chip sono la cosa più importante che è uno degli asset più importanti che stanno cercando di essere controllati la produzione dei microprogetti si ci mancano soltanto le terre rare in materie prime si diciamo che come ci diciamo in questo discorso in una situazione internazionale mutevole rispetto a anni dove forse erano un pochino più stabilizzati certi equilibri per non parlare della guerra fredda andando indietro avere un Parlamento europeo significativamente rappresentativo e forte sarebbe qualcosa di importante assolutamente sì cioè nel senso quando noi andiamo a votare per il Parlamento europeo andiamo a votare per un'istituzione dove mandiamo dei rappresentanti che si vanno a occupare di queste cose anche di queste cose poi il grande tema è efficiente l'Unione europea non è efficiente è tutto un discorso che si può impostare però di base noi stiamo parlando di persone che vanno a discutere di questo ma quindi per assumere un po' la domanda di Nick noi con il nostro voto perché poi alla fine di questa puntata cerca di dare i mezzi di comprensione a chi deve andare a votare può influenzare la politica europea soprattutto anche in scenario internazionale come in città che ci sono quelli che dicono ma lasciamogli l'Ucraina c'è questa contraposizione in Europa tale per cui il nostro voto può favorire o sfavorire una linea piuttosto che l'altra sostanzialmente il Parlamento uscente è un Parlamento che in un certo senso ha ancora delle sembianze conosciute tradizionali probabilmente quindi in buona sostanza il Partito Popolare europeo ha la maggioranza il Partito i socialisti e l'opposizione che segue e poi esistono una serie di forze che seguono ci sono i verdi e ci sono anche questo gruppo che è il gruppo dei conservatori che è un gruppo che in realtà sembrerebbe essere che rappresenta le destre in senso più stretto sembrerebbe crescere nel consenso in vista delle prossime elezioni quindi un grande tema è effettivamente le destre su quali temi cioè quella cosa lì potrebbe cambiare sostanzialmente cambiare sembrerebbe sì assolutamente sì assolutamente sì perché noi per adesso cioè io ho un po' qualche reminescenza vaga mi ricordo che tipo Forza Italia li portava i suoi candidati nel Partito Popolare Europeo il Partito Democratico nel Partito Socialista poi dopo io non ho mai capito dove mettesse i suoi candidati i 5 Stelle non ho ben capito dove li metta la Lega e dove li metta Fratelli d'Italia al confine l'abbiamo detto inizio puntata diciamo che non vorrei non vorrei fare delle battute però diciamo che il futuro probabile anche del nostro Presidente della Regione sembra un futuro da Sant'Ellenati tu dici che Bonaccini lo stanno mandando al confino nel Partito Socialista è abbastanza storia così abbastanza risaputa che Bonaccini avrebbe molto gradito la possibilità di di correre per un terzo mandato alla Regione cosa che di fatto non sarà consentita quindi magicamente sì io su questa cosa apro solo il mio pensiero che può essere condivisibile o no io sono d'accordo che ci deve essere ricambio politico generazionale eccetera però lasciatelo decidere gli elettori io su questa cosa qua io toglierei proprio il vincolo a uno due metterei anche infiniti l'hanno data questa possibilità perché mandandoli in Europa c'è stato chi prima di Bonaccini nel Partito Democratico ha visto cambiare la sua carriera politica dopo le elezioni europee se non ricordo solo perché è talmente difficile trovare un amministratore bravo e non voglio dire che Bonaccini sia bravo ma il mio discorso è un generale cioè se te trovi uno che ti piace che è bravo ed è talmente difficile che tienetelo stretto questo è il mio pensiero condivisibile o meno però io sono sempre abbastanza onesto e in tutto questo la domanda che noi veramente ci poniamo visto che andiamo a votare però come abbiamo detto sembra che li mandiamo al confine ma l'Italia conta qualcosa in Europa perché anche qua noi abbiamo questa percezione bellissima che noi siamo proprio i giullari di corte del continente quelli che vengono subito prima della Grecia la verità è questa ovviamente ogni paese quindi partendo dal Parlamento Europeo che è quello di cui stiamo discutendo ogni paese ha assegnata una quota di parlamentari ovviamente mi verrebbe da dire il paese che ha assegnato la quota preponderante di parlamentari è la Germania e beh di che ci stupiamo sono 96 andranno andranno eletti 96 euro parlamentari ma giustamente la Germania anche a livello di popolazione sono 80 milioni di abitanti è un paese grande cioè a noi sembra sembra spesso abbiamo una percezione come un paese che sia più o meno siamo grandi come la Germania a livello di popolazione c'è una bella differenza ma è una bella percezione che è un po' cambiata perché non vediamo più tanti tedeschi in riviera allora non ci rendiamo conti sono tornati tutti là saranno pochi sì sì sono tutti in Europa sono tutti in Europa esatto si può stare no questa è sottile ma è molto dedicata il secondo paese per presenza facciamo il questo è la Francia dai hai qualcosa da dire in merito è dal 98 che non ho più niente da dire in merito dai vediamo se indovini il terzo tu che ti giochi ma in teoria dovrebbe pensavo l'Italia però magari mi sbaglio io mi gioco è veramente l'Italia io mi sarei giocato la Spagna invece la Spagna è più giù la Spagna ne eleggerà 61 laddove l'Italia ne eleggerà 76 quindi in sostanza gli spaghetti in un paese esattamente poi a seguire la Polonia e questo qua sarebbe un tema che non è un paese secondario per niente da un punto di vista sia dell'impatto che sta avendo e da un punto di vista anche delle dinamiche che sta proponendo a livello politico perché c'è un'Europa che alle volte è sembrata spaccata nord-sud ovest quindi è un come noi abbiamo le divisioni no la classica anche noi nord-sud centro eccetera Mattia una volta facciamo una puntata solo sulla Polonia ce la guarderemo io e te sì ma mi piacerebbe tantissimo approfondirlo anche perché è il quinto paese più rappresentato nel Parlamento Europeo assolutamente sì ed è un paese che nonostante noi pensiamo freddo è caldissimo a livello di a livello di dinamiche politiche perché è un paese dove sostanzialmente io ripropongo il tema diciamo si sono intraviste delle dinamiche a livello di estremizzazione del panorama politico quindi in buona sostanza è un paese che è atteso a virare a destra e diciamo è sempre lì lì una destra che loro avrebbero conosciuto anche molto da vicino tra l'altro un po' di destra che ho in mente io un pochino dura però non ho capito la risposta all'Italia al di là del numero di parlamentari che tipo di peso ha nella politica europea allora sempre sempre ascoltando ripeto Radio Bugadera perché l'Europa decide che non dobbiamo produrre più latte e che l'Italia stia a guardare va bene è così o non è così no allora è così anche lì dipende dal tipo di tema che si va a trattare perché l'Italia ovviamente laddove si va a parlare di agroalimentare laddove si va a parlare per l'appunto di di lusso quelle che sono le nostre sostanzialmente le nostre prerogative carattere economico di turismo è un paese che come dire ha un peso che dimostra nel Parlamento che dimostra nelle personalità che manda a a trattare questo tipo di cose ed effettivamente cioè non è che tutte le volte che noi perdiamo tra virgolette una partita significa che non abbiamo peso significa che alle volte ce la siamo giocata male che alle volte non siamo stati a livello di paese non siamo stati così bravi a sostanzialmente fare fare pressione perché una certa linea passasse perché vorrei dire un'altra cosa perché ho tante persone che conosco che lavorano in quel contesto il Bruxelles no quindi il cuore istituzionale dell'Unione Europea anche se le varie sedi sono divise in diverse città pullula di associazioni di taglio industriale quindi l'associazione dell'industria automotive piuttosto che dell'industria dei tabaccai non so l'industria del tabacco ma dei tabaccai piuttosto che del biomedicale piuttosto che questo queste sono associazioni che fanno lobbying quindi che fanno pressione il lobbismo certo non è una roba negativa anche se noi in Italia la pensiamo in questa maniera è una roba normale cioè cercano di fare di portare peso ai propri interessi e di farli valere nelle sedi in cui si decidono quel tipo di dinamiche cioè il nostro settore ci interessa eliminare il diesel nell'automotive bene sì bene no e c'è chi pressa per una cosa rispetto a un'altra perfetto questa è una realtà che è completamente sconosciuta giustamente alle persone giustamente io sarei anche per parlarne di più divulgarla assolutamente sì e noi come paese Italia abbiamo sempre fatto un pochino più fatica come categorie proprio di settore a essere forti nel rappresentare le nostre istanze cioè il classico discorso abbiamo sempre fatto un pochino più fatica a fare il sistema rispetto magari ai francesi che sono sempre stati fortissimi è così questo è vero non ho detto niente i tedeschi che diciamo hanno avuto anche dalla loro ma anche perché poi scusa c'è poi anche un altro livello nel senso che poi noi adesso stiamo ragionando per nazioni ma poi come dicevamo prima questi qua fanno parte di una forza politica quindi non è che tutti gli italiani sono nel partito socialista tutti i francesi sono in quello popolare dopo c'è anche quella frammentazione lì da considerare a parte che per essere per togliere direttamente le castagne dal fuoco il primo partito in Italia oggi cioè il fratello d'Italia aderisce ai conservatori quindi non è nel partito popolare europeo no no quindi non è un partito di governo in Europa attualmente assolutamente infatti qui ci sono le proiezioni ci sono le proiezioni proprio sempre Euro News Euro Barometro questi strumenti che frequenta solo Mattia esattamente qui abbiamo le proiezioni a marzo 24 che è l'ultimo sondaggio fatto di come probabilmente comporremo noi in Italia il Parlamento europeo in termini delle forze politiche europee e probabilmente i conservatori saranno secondo questo sondaggio il partito più rappresentato quindi manderemo tipo una quarantina di conservatori conservatori 17 socialisti e poi a seguire tutto il resto ma concludo ma molto velocemente perché siamo andati anche troppo avanti ma c'è un'avanzata del destro di conservatori in Europa perché ecco noi temiamo cioè temiamo pensiamo più che temiamo che il tema principale sulle elezioni europee dal punto di vista proprio politico sia quello cioè quanto avanzeranno queste destre di cui ormai da anni si parla che abbiamo visto avanzare in Italia cioè cambierà quelle sono avanzate solo in Italia cioè è una dinamica che è sempre presente nel contesto europeo perché giustamente sono forze legittime cioè capiamoci non sono forze illegittime che non stiamo parlando dei nazionalsocialisti tedeschi cioè capiamoci il punto è che esistono temi che oggi non abbiamo toccato ma temi della migrazione e rimangono i temi della globalizzazione sono temi che portano i cittadini cioè sentirsi esclusi da un certo tipo di globalizzazione sentirsi invasi in un certo senso nella percezione comune da ondate migratorie su cui non abbiamo controllo che vengono da contesti che a nostro modo di vedere o a modo di vedere generale non ci riguardano più di tanto alimenta un certo conservatorismo al quale i partiti diciamo che tradizionalmente erano di centro-destra fanno più fatica a dare risposte e noi qua in Italia lo vediamo dove noi ne abbiamo avuto modo di parlare altre volte ma la cosa incredibile è di vedere Forza Italia che prima era il campione del centro-destra poi in realtà era un partito potentemente personalistico essere colato a picco rispetto a un Fratelli d'Italia che è a sua volta personalistico perché probabilmente senza Giorgia Meloni avrebbe molto meno impatto ma che va a raccogliere determinati cioè Fratelli d'Italia più più Lega fanno una massa critica perché rappresentano determinate determinate tendenze della società molto bene insomma se abbiamo cercato di darvi un'infarinata servirebbero ore e ore di puntata ma abbiamo cercato come sempre di darvi qualche linea guida qualche spunto in più soprattutto quando si tratta di voto perché io e Nicola da quando abbiamo creato Obiettivo 100 il nostro momento cioè Obiettivo 100 il caffè della domenica mentina tutto quello che vedete tra le lezioni e l'altra per me Nicola è contorno noi seguiremo solo le lezioni perciò noi siamo molto eccitati in questo momento scelte l'eurobarometro l'eurobarometro e le lezioni locali dicci quante volte consumi consumi consulti l'eurobarometro te in una giornata no no l'eurobarometro no faremo una puntata anche sull'eurobarometro quella però non la guardiamo la facciamo guardare solo a lui esatto me lo voglio tatuare eurobarometro ti chiedo ho l'ultima richiesta in conclusione fai una specie di spot elettorale per mandare la gente al voto perché devono andare a votare il parlamento europeo molto veloce bella cosa andate a votare il parlamento europeo perché di fatto è come votare alle proprie elezioni nazionali no questo non va bene rifarlo perché non va a votare nessuno a quelle nazionali hai ragione hai ragione anche tu di fatto perché siamo toccati da tutto quello che ci sta intorno e l'Europa ho il momento se voi non volete occuparvi dell'Europa l'Europa si occuperà di voi bello questo pelle d'oca pelle d'oca posso fare un applauso sì sì con questa con questa frase veramente chiamerò salvo lì ma d'ora in poi dopo questa bella Roma esatto con voi ci vediamo domenica prossima con un'importantissima novità e preparatevi perché ci sarà da ridere soprattutto per me e Nicola grazie ancora Mattia a domenica prossima se ti è piaciuto questo video iscriviti lascia un mi piace e ricordati che puoi guardare altri nostri video proprio qui sotto a domenica prossima a domenica prossima a domenica prossima